...produttivo italiano. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web tv della Camera dei Deputati. Do la parola al professor Roberto Cingolani, ricordando che il tempo complessivo a disposizione qui non abbiamo, diciamo, posto limiti anche per la strategicità dell'azienda, pregando l'altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento, ma direi che non ci sono problemi, focalizzandosi ovviamente sull'oggetto dell'indagine. Prego professore, grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, ben trovati in forme diverse, ma insomma sono contento di vedere molti di voi e vi ringrazio come sempre per l'opportunità di poter presentare un'opinione e dare delle informazioni alla Commissione parlamentare e quindi al Parlamento. Allora io non ho preparato uno script perché ho pensato di condividere con voi alcune informazioni e vorrei dividere questa discussione con voi oggi in due parti. Allora, una, visto che tutti parlano di AI, è affrontare il problema dell'infrastruttura. AI non è una roba che uno c'ha nel suo cellulare o che se la fa in casa da solo. AI è uno strumento tecnologico avanzato che però deve essere, se sistemico, quindi di interesse di un intero Paese, basato su un'infrastruttura. Questa infrastruttura ha una serie di cosiddetti building blocks, di strumenti che servono, senza i quali un Paese non è competitivo e vorrei analizzare rapidamente questa parte con voi. Poi c'è una seconda parte che invece è più connessa agli aspetti etico-legislativi, opportunità e così via, di cui molti parlano e sulla quale io posso aggiungere alcune opinioni da tecnico che ha lavorato con sistemi autonomi intelligenti, ma che si aggiunge alla pletola di opinioni che ci sono già, quindi più soggettiva. Per cui fatemi partire un attimo con una visione un po' di Paese avanzato che voglia essere competitivo nel mondo, chiamiamolo AI, ma in generale di tecnologie digitali. Allora, noi abbiamo un po', diciamo, un po' scolpito nella roccia, possiamo descrivere questo modello. Io ho bisogno di una macchina che faccia i conti, che faccia girare algoritmi, risolva algoritmi, faccia molte operazioni matematiche al secondo, quindi tipicamente un computer, un super computer. Poi a seconda del task può essere il computer che ho a casa, il mio iPad o può essere un super computer di grandi dimensioni. Quindi la prima cosa è la potenza di calcolo. Ho bisogno di un essere umano che sviluppi gli algoritmi. Quello al momento lo fa l'essere umano. È la componente di intelligenza naturale che serve poi ad alimentare l'intelligenza artificiale. L'algoritmo è una funzione più o meno complessa, con tanti parametri. Se è una cosa molto piccola si risolve anche con un telefonino, se è una cosa molto complessa c'è bisogno di una potenza di calcolo estremamente elevata. Dopodiché questo algoritmo normalmente cosa fa? Viene calcolato, risolto da un computer, però c'è bisogno che in qualche maniera l'algoritmo venga educato. Cioè deve avere una base di dati importante, leggere questi dati e in qualche modo sulla base di questi dati attraverso algoritmi complessi imparare qualcosa, quindi migliorarsi. Questo è l'unica cosa che veramente assomiglia all'intelligenza umana, cioè si può addestrare. Avere i dati vuol dire quindi avere una base di dati molto forte. Oggi la chiamiamo cloud, per cui io ho la memoria di cloud, la macchina che fa i conti, c'è un essere umano che ha fatto degli algoritmi, ma per adesso dimentichiamocelo. E questo mi consente intanto di avere su una base di dati molto complessa un algoritmo che prevede qualcosa dopo aver capito questi dati, averli assimilati, averli correlati e quindi essendo stata addestrata. Non basta perché tutto ciò rimarrebbe chiuso in una stanza. Normalmente i dati e le decisioni che vengono prese da questo algoritmo devono andare da qualche parte, non so, controllare un attuatore, controllare qualcos'altro che beneficerà della decisione dell'intelligenza artificiale. E per fare questo normalmente serve una rete, che non è quella solita a cui siamo abituati, dalla DSL alla piattina, quasi sempre ormai è una rete wireless. Parliamo di 5G per dare un'idea, ma non è solo quella, può essere anche satellitare o altro. Quindi macchina che fa i calcoli, umano che fa l'algoritmo, macchina che fa i calcoli, grande spazio di memoria su cui la macchina e l'algoritmo si addestrano, le conclusioni entrano ed escono da questa macchina attraverso per esempio un 5G o una struttura wireless. In qualsiasi momento devo evitare che questo sia attaccabile e quindi devo avere che la connessione, questo trasferimento di dati sia cyber sicuro, la famosa cyber security. Ok? Allora sono quattro elementi. Se un paese vuole essere competitivo in questo settore deve avere queste quattro cose, se non ce l'ha non è competitivo. Ovviamente alla base di tutto quello che vi ho raccontato c'è una tecnologia di base che è quella che noi chiamiamo la tecnologia elettronica che sostanzialmente oggi che cos'è? È la capacità di mettere in un circuito integrato che è diciamo poco più piccolo di questo orologio che io porto al polso, miliardi e miliardi di elementi circuitali, tipicamente transistor. Oggi i transistor che compongono i circuiti integrati, le unità logiche fondamentali, sono grandi poco più di un filamento di DNA. Quindi noi in un chip, in un circuito integrato, in una di queste che chiamiamo GPU, CPU eccetera, queste unità di processo, mettiamo miliardi e miliardi di transistor. Quanti più elementi ci sono nel mio elemento circuitale, tanto più miliardi di operazioni matematiche al secondo questo elemento può fare, tanto più potente sarà il mio computer. Dopodiché se andate a vedere, è una bella cosa che vi consiglio, andate a vedere top500.org top500.org, sono i 500 super computer più potenti al mondo, c'è scritto quante unità di core, cioè quanti questi circuiti integrati hanno, quanti centinaia di miliardi, se non addirittura miliardi di miliardi di operazioni al secondo fanno, e lì avete una mappa del mondo. Sapete, per un attimo parlo da amministratore delegato di un'azienda che si occupa di difesa e sicurezza. Dalla guerra in Ucraina noi abbiamo imparato che con un satellite civile, un telefono satellitare e un drone civile, scaricando una piccola quantità di esplosivo, con un investimento di poche migliaia di euro si distrugge un car armato che vale 50 milioni. Questo ha fatto capire, nella tragicità della guerra, della matricità della guerra, che io non discuto in questa sede, ha fatto capire che ormai il digitale, anche quando parte da tutti gli oggetti civili, quindi un telefono, un satellite, un drone, un drone proprio di quelli da fare fotografia, la parte digitale sta diventando un elemento essenziale di tutto, della prevenzione, della difesa, del funzionamento della pubblica amministrazione, della telemedicina, ormai è diventata una piattaforma tecnologica trasversale. Allora, primo punto, la possibilità di essere autonomi nella fabbricazione dei circuiti elettronici, che ci consentono di fare tutto, il telefonino, il computer, eccetera. Questo noi non ce l'abbiamo, l'abbiamo perso nel tempo. Secondo punto, vi ho detto, i quattro elementi, i super computer, dati recenti, 23-24, i super computer, tutta la tecnologia del super computer, al momento vale circa 42 miliardi di dollari, dati 2022, e con un CAGR dell'8% è previsto arrivare intorno ai 117 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. Quindi stiamo parlando di 0,1 trillions, 110 miliardi di dollari, solo di macchine che fanno super computazione. Questi saranno i generatori di AI dei prossimi dieci anni. Attualmente il 53,6% è nel Nord America, praticamente tutto Stati Uniti. 25% in Europa e in Asia meno del 20%. Nonostante in Asia ci siano due o tre delle macchine più performanti, in Giappone in particolare, però in realtà l'America ha una, gli Stati Uniti hanno un predominio che io vi traduco così. Dati gli abitanti di un paese, il numero di operazioni al secondo medio per abitante, se io ho tanti computer che fanno miliardi di miliardi di operazioni al secondo, si chiamano exaflop, le macchine exascale. Exa sta per un miliardo di miliardi. Quindi le macchine che fanno un miliardo di miliardi di operazioni al secondo saranno poche decine, ma anche di meno, si contano su due mani. Se sommate la potenza di calcolo di un paese come gli Stati Uniti, ogni cittadino americano ha una quantità di operazioni al secondo media disponibile che è all'incirca doppio o triplo di quello che abbiamo noi. Dal punto di vista dei paesi, quindi non dei continenti, l'America ha mediamente 5 exaflop, cioè 5 miliardi di miliardi di operazioni al secondo, gli Stati Uniti, questa è la sua potenza di calcolo totale. Il Giappone da 5 miliardi a 870 milioni di miliardi di operazioni al secondo, la Cina 770 milioni di miliardi di operazioni al secondo, la Finlandia mezzo miliardo di operazioni al secondo e l'Italia che ha avuto una recentissima crescita rapidissima grazie al privato, compreso noi, ma anche al grande computer del Cineca rinnovato, è arrivata a 460 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Quindi in realtà come potenza di calcolo saremmo i quinti al mondo. Che è rimarchevole perché se andate a vedere la potenza di calcolo per persona, adesso non ce l'ho esattamente, ma insomma se l'America con 350 milioni di abitanti c'ha 5 miliardi di miliardi di operazioni al secondo, noi con 60 milioni abbiamo 460, diciamo che abbiamo circa la metà del procapite, niente male tenuto conto che è un asset così importante. Esprimerei una certa soddisfazione sulla sensibilità che il nostro paese ha avuto. non è sufficiente per essere proprio board leading, però è una crescita esponenziale negli ultimi anni. Dove, scusatemi il termine un po' confidenziale, butta male, è sull'altra componente, cioè sulla memoria, perché siamo molto forti sul calcolo, abbiamo dei bravissimi umani che fanno algoritmi, perché la nostra scuola diciamo è ottima, sulla parte cloud, quella che dovrebbe garantirci il grande deposito di informazioni, questa è una parte che va intorno ai 100 miliardi di dollari a fine decennio, quindi anche questa è grossa, cresce al 17% di CAGR, quindi roba grossa. Purtroppo qui l'informazione è tutta US, Amazon, Microsoft, Google, Oracle, IBM sono le prime, in mezzo c'è Alibaba, unica cinese. Quindi capite che in questa mappa del mondo, io lo chiamo digitale, chiaramente in Nord America c'è metà della potenza di calcolo mondiale, l'Italia sarà gioca bene su questo, ma è marginale in questo discorso, gli Stati Uniti hanno quasi tutta la memoria di massa. Questo è importante, perché vorrei che fosse chiaro che se io ho memoria di massa, ho tutte le informazioni possibili e immaginabili a disposizione, accessibili 24-24, con quella potenza di calcolo, io sono in grado di istruire algoritmi di tutti i tipi, dalla sanità, alla pubblica amministrazione, alla difesa, ai sistemi finanziari, alle previsioni del tempo, perché vi è chiaro come funziona, no? Se ho un database con tutte le informazioni, mettiamo, meteorologiche, io posso addestrare i miei algoritmi con quelle statistiche in modo che dopo un po' diventino estremamente precisi, ma non sulle 24 ore, addirittura su una settimana dopo, che è la capacità di un Paese avanzato di prevedere, prevedere cosa? Qualunque cosa. Io parlo di previsioni atmosferiche perché forse è l'argomento più semplice, ma immaginatevi la previsione finanziaria o addirittura la simulazione di cose molto complesse, come per esempio uno scenario di combattimento, o delle previsioni finanziarie molto rilevanti, o la medicina. Oggi si può simulare l'interazione di un farmaco con una proteina, per esempio, responsabile di qualche processo letale dal punto di vista medico dell'umano e io posso simulare questa cosa senza farla nel laboratorio di chimica. I vaccini Covid sono stati accelerati anche dal fatto che sono stati simulati, no? Pensate a un cambio terapico che viene sviluppato in 18 mesi con le simulazioni invece che in anni e anni di prova e riprova. Una volta che la simulazione funziona, se ci azzecca, se è precisa, dopo mi accelera tutta la parte che viene a valle, no? Cioè di sintetizzare la molecola e fare le prove cliniche. Ma io ho risparmiato dieci anni di simulazione, quindi questo è un impatto sulla sicurezza, sul benessere delle persone, sull'ambiente, sulle finanze e quindi in generale sul PIL, che è enorme. Allora noi sul cloud siamo totalmente fuori. Vi ricordo che l'Europa non è riuscita ancora a far partire Gaia X che doveva essere il cloud europeo e tantomeno gli stati sono riusciti a mettersi, i 27 stati membri. Vi ricordo che non è sufficiente avere una super memoria, tra l'altro fare una memoria non è manco troppo costoso. Il problema è che il dato sensibile del cittadino, vi dico, sanitario, finanziario e in generale sicurezza, difesa, questi tre dati devono essere garantiti veramente sicuri per i cittadini perché se no è un disastro. Io ho un cloud potentissimo come Leonardo, l'abbiamo messo su da poco, è una macchina stratosferica, però io sono un'azienda quotata sul mercato, non è che posso avere i vostri dati, o lo Stato mi chiede con un accordo specifico, mi chiede di custodire, non so, mettiamo dei dati sulla difesa, oppure in realtà da privato non li posso ottenere io. Però scusatemi, in fondo io potrei dirvelo come azienda controllata avendo il MEF dentro potrei dare delle garanzie, in realtà noi casomai andiamo a mettere i nostri dati da un grande provider americano, i nomi li conoscete, no? Amazon, Microsoft, Google, loro ci garantiscono riservatezza, sicurezza eccetera, però capite sono i vostri dati, sono i vostri risparmi informativi, questa è la valuta del futuro. Questo è un problema che noi ci dobbiamo porre, cosa facciamo per garantire il cloud ai cittadini, il cloud protetto, prima a livello domestico e poi a livello europeo, se vogliamo essere un continente che conta. E su questo siamo indietro. Nonostante si parli di un mercato che va verso i 100 miliardi di euro a fine decennio, quindi non è che stiamo parlando di una robetta, c'è anche una prospettiva di mercato, voi siete commissione industria, quindi diciamo al di là della filosofia di certe scelte, poi io vi ho parlato di mercati da 100 miliardi nei prossimi anni con CAGR che vanno dall'8 al 17% per ora, cioè stiamo parlando di roba grossa, grossa, grossa. Tra l'altro, se pensate anche un po' il digitale, se lo comparate, noi facciamo aerei, questi numeri su cose complicatissime come gli aerei, come gli elicotteri, come i satelliti, dove ci sono investimenti enormi per la ricerca e sviluppo, in realtà alla fine, sul lungo termine, il digitale ha capitalizzazioni più basse, quindi investi di meno in realtà, e hai un ritorno enorme, perché poi i servizi fanno il 70% dell'economia, quindi attenzione perché un'economia sì tecnologica, però con molto servizio è un'economia che tira, invece se uno fa solamente hardware pesante, c'ha grandi investimenti, quando uno fa hardware, se va bene fa 3-4 volte l'investimento, quando uno fa software può fare 100-1000 volte l'investimento, una sana via di mezzo fa un paese forte. Il terzo elemento che vi avevo detto era cyber security, allora la cyber security credo che sia chiara a tutti, se vi crackano il telefonino, vi crackano il conto in banca, vi crackano qualunque cosa avete, ormai è tutto digitale, questo vi possono personalmente rovinare, ma pensate se un attacco a questo punto viene fatto minacciando la sicurezza cibernetica di aeroporti, semafori, ferrovie, lineare, cioè lì ragazzi è roba pesante, pensate se uno entra in una rete che gestisce semafori e li fa impazzire, ora è una battuta, però è chiaro qual è il rischio, cioè c'è la sindrome della Twin Tower per certi versi, io con un cyber attacco posso fare dei danni serissimi ai cittadini, ma anche alle infrastrutture. Oggi la cyber security vale 183 miliardi di dollari, oggi, il punto che è la sua previsione al 28, cioè da qua 4 anni è 270 miliardi, cioè sto parlando che è una roba che in 4 anni raddoppia, vuol dire che è un CAGR pazzesco. 33% della cyber security oggi è dedicata a business e finanza, cioè con quello che è la protezione del vostro conto bancario online, che per carità è fondamentale, ma non è solo quello, la cyber security a livello governativo è il 24%, cioè pubblica amministrazione, no? La salute 12%, questo perché siamo poco digitalizzati, però capite che nel momento in cui comincia a esserci cartella clinica elettronica per tutti, addirittura medicina teleoperata, io vando la mia TAC o quello che è al mio medico via computer e lì c'è un'informazione che casomai qualcuno può decidere di usare perché non mi vuole dare il mutuo, perché ho un brutto male, perché questa purtroppo è la questione, no? Oppure il mio datore di lavoro non mi assume perché sa che io, non so, sono diabetico. Ecco, queste cose che devono proteggere il cittadino, prima cosa è cyber security, altrimenti è inutile che digitalizziamo, no? Allora Health adesso è 12%, ma crescerà enormemente col passo della digitalizzazione. Le telecom 10% e poi retail e vendite, quando voi comprate con Paypal, su Amazon, eccetera, l'8% dell'investimento in cyber security per proteggere i vostri acquisti online, ok? O le carte di credito, tutta questa roba qui. Allora, questo è il terzo pezzo. Quarto pezzo, e chiudo con la parte infrastrutturale, poi vado alle cose, diciamo, più inerenti AI, è il 5G, perché oggi alla fine noi stiamo cercando di liberarci dell'infrastruttura di terra, no? Molti stanno levandosi il telefono e vanno direttamente con il cellulare e molte delle azioni che noi facciamo sono fatte via cellulare. Poi ci saranno addirittura le linee satellitari, ma comunque tutta roba wireless. Il 5G è un fenomeno economico. Il CAGR, quindi il tasso di crescita, stimato per il 5G, è 48%. C'è una roba che non esiste un settore che stia crescendo così. Va da 18 miliardi di dollari, quindi tutto sommato poco, nel 23, a 994 miliardi nel 33. Cioè, questo decennio noi andiamo da 18 miliardi a 1000 miliardi. È un CAGR così. Questo perché capite la strategicità. Chi possiede il 5G possiede le autostrade digitali su cui viaggeranno tutte le informazioni. Qui fatevi due conti perché sapete qual è il paese depositario delle tecnologie prevalentemente 5G, no? È la Cina, con una concorrenza a livello europeo di Ericsson. Allora, io posso essere potentissimo con le macchine che fanno i calcoli e avere i più grossi database, farli parlare, avere un'AI molto evoluta e posso essere anche, cercare di essere cyber sicuro. Però c'è qualcun altro che mi dà le tecnologie per trasmettere questi dati. È come se io avessi le macchine, però le strade ce l'ha un altro. E quindi, chi è più forte? Chi ha la macchina o chi ha la strada? In realtà, senza l'uno l'altro non c'è. Però se proprio dovessi scegliere, in questo momento credo, la strategicità del 5G sia molto importante. Allora, questi sono i quattro pezzi. La situazione italiana, ve l'ho detta. La situazione europea non è molto diversa da quella italiana e quindi, a mio parere, serve una riflessione nazionale ed europea. Dopodiché, vorrei, prima di passare all'ultima parte, quella su AI, vorrei anche farvi riflettere su un punto. Siccome questo è un periodo in cui dobbiamo stare molto attenti a tanti problemi, però in questo momento è rilevante, per esempio, il problema dell'agricoltura. C'è un momento in cui in tutta Europa abbiamo il problema di queste manifestazioni dei trattori, degli agricoltori. Ora, vedete, mentre ci sono questi problemi drammatici che hanno a che fare con la forza lavoro, con la remuneratività di certi lavori faticosi, con tutto quello che ne consegue, e poi socialmente ognuno lo interpreta come vuole, ma è un problema europeo, non è un problema italiano. Anche alcune politiche forse non proprio illuminate, nel senso che si voleva risolvere un problema, ma con una tale velocità e con un tal livello di ideologia che probabilmente questo metteva in ginocchio altre filiere. Questa cosa ha creato degli scompensi. Bene. In questo momento, mentre noi abbiamo questi problemi come Europa, la frontiera della tecnologia agricola è questa. Il trattore è un sistema collegato a un GPS e quindi viene guidato con una precisione di, diciamo, un metro su un grande campo. È collegato al sistema che fa le previsioni del tempo. È collegato al magazzino dove ci sono i semi per la semina. È collegato alla rete di sensori grometrici che stabiliscono l'acidità e l'umidità del terreno. Questa macchina è come se questo sistema, che se pensate è un sistema di sistemi, no? Perché cioè il trattore è legato a previsioni del tempo, igrometria, deposito dei semi, eccetera. Questa macchina si chiama sistema dei sistemi, è un sistema di sistemi. È un organismo in cui tanti oggetti che non si sono mai parlati se non attraverso un'intermediazione umana, perché prima c'ero io che avevo l'impresa, allora guidavo il trattore, vedevo le cose del tempo, poi andavo nel mio magazzino di semi, poi mi prendevo col computer i dati di umidità del terreno e poi io con la mia intelligenza naturale cercavo di fare la cosa migliore. Adesso questa cosa è totalmente AI controlled. Questo risparmia acqua, semi, qualità del terreno. C'è solo vantaggi, ha solo vantaggi, dato anche il problema che abbiamo delle coltivazioni intensive, eccetera. Ma nello stesso tempo, capite bene che va a impattare su una filiera che per un secolo è stata fortemente basata sull'intelligenza naturale e non possiamo dire al contadino vabbè, visto che non guidi più il trattore, trasformati in programmatore elettronico e programmati l'algoritmo che ti fa l'AI nella fattoria. Quindi qui c'è un problema fondamentale di ovviamente non fermare il progresso, perché chi ferma il progresso ha deciso di tornare a Nandertal, ma nello stesso tempo di avere una strategia che consenta di investire non una tanto, ma nel corso della vita lavorativa del lavoratore, qualunque sia il lavoratore, adesso ho fatto l'esempio dell'agricoltura di precisione, con un patto pubblico privato che investa molto sull'aggiornamento continuo. Senza questa operazione noi non potremo sfruttare al meglio le nuove tecnologie. D'altro canto pensare di farne a meno vuol dire che abbiamo rinunciato al percorso della storia, ci fermiamo e andiamo come prima. Gli altri andranno avanti in un altro modo. Quindi io sono molto laico, essendo un tecnologo non mi innamoro della tecnologia, la sviluppo e cerco di usarla bene. Per usarla bene la componente umana è sempre fondamentale, però la componente umana richiede investimento come la componente tecnologica. Dopodiché demonizzare la tecnologia è un errore gravissimo, cioè dire che una tecnologia è pericolosa e stupido, la tecnologia non fa nulla da sola, dipende da chi lo utilizza. Chiudo quindi la parte infrastrutturale e rapidissimamente qui non vi porterò via molto tempo, andando invece su un altro tema che è quello più inerente alla questione AI. Allora qui vi porterò via massimo dieci minuti, però vorrei un po' dirvi, ci sono alcuni aspetti che vanno chiariti. Allora, l'AI ha una storia che è molto interessante. Se avete tempo vi suggerirei di andare a vedere, si trova un po' a tutte le parti. Ma l'AI ha una storia che è particolarmente interessante. Adesso vi volevo, non so se avete mai sentito parlare dell'inverno dell'intelligenza artificiale. È una cosa che suona poetica, ma in realtà è stato un inseguimento continuo della società moderna alla capacità di calcolo. Allora, nel 1943 esce fuori una pubblicazione importante che è il calcolo logico di un'idea riguardo il sistema nervoso. C'è stato uno scienziato che si chiamava Warren McCullough che ha cominciato a studiare il sistema nervoso come sistema di calcolo. Lì nasceva, come concetto, il primo modello matematico per una rete neurale. La rete neurale è un aggeggio matematico che funziona come i nostri neuroni. Quindi era un'idea di dire, posso fare l'equivalente un cervello umano con una macchina? Non esistevano ancora i transistor, i componenti elettronici, però la simulazione si faceva. Vado molto rapido. Le tre leggi della robotica, queste cose le avete sentite, arriviamo in buona sostanza intorno agli anni 60 in cui si creano degli algoritmi che riescono a riconoscere il linguaggio. Per essere molto chiari, questi servivano a intercettare, perché non erano sabersicure, le telefonate fatte dai russi o con codici criptati e interpretarle. Quindi era una questione tutto sommato di militare, di sicurezza. Si creano questi algoritmi che interpretano il linguaggio, però le macchine che dovevano farli funzionare non erano abbastanza potenti perché facevano mille, duemila operazioni al secondo. Vi voglio ricordare che quando noi siamo arrivati sulla Luna come genere umano nel 68-69, il computer che controllava il LEM, vi ricordate il modulo di atterraggio, faceva un milione di operazioni al secondo. Questo ne fa quasi un miliardo. Cioè questo qui avrebbe potuto comandare dieci LEM. Quindi quando vi parlo degli anni 50-60, con un milione di operazioni al secondo, era difficilissimo interpretare un linguaggio e crittografarlo, ci voleva un sacco di tempo. E quindi ci fu il primo inverno dell'intelligenza artificiale. Le grandi agenzie di finanziamento, soprattutto negli Stati Uniti, dissero, guardate, è inutile che voi fate algoritmi che possono capire tutto. Tanto non abbiamo le macchine che li possono risolvere. Molti algoritmi matematici non si possono risolvere a mano, facendo i conti. Devono essere risolti in maniera numerica. Ma le macchine non erano potenti e quindi non riuscivano a risolverli in tempo rapido, in tempo reale. Ci ventevano due giorni e io non potevo aspettare due giorni per capire la parola che avevo sentito al telefono. Primo inverno dell'intelligenza artificiale. Poi pian piano l'elettronica si è evoluta, le macchine sono diventate più potenti, sono usciti i computer più potenti e tutti quegli algoritmi sono stati rimessi in questi computer e hanno detto, ah fantastico, riusciamo a tradurre. Allora, nuovo slancio dell'intelligenza artificiale, nuovi algoritmi sempre più complicati e di nuovo le macchine non riuscivano a risolverli. E c'è stato il secondo inverno dell'intelligenza artificiale. Quando vi parlo di inverno vuol dire che le agenzie, il Department of Defense, tutte queste qua, DARPA, non davano più i soldi. Cioè a un certo punto si diceva, basta, questa ricerca è interrotta e quindi tutta la filiera industriale conseguente, perché tanto anche se fate degli algoritmi pazzeschi io non ho la macchina per risolverli. Nel frattempo l'industria elettronica continuava a migliorare, uscivano dopo dieci anni i computer più potenti e c'era di nuovo la corsa alla nuova intelligenza artificiale. Siamo nel 2020, che cosa abbiamo fatto? Alexa, ChatGTP, che cosa fanno? Quello che volevamo fare negli anni 50. Linguaggio, interpretano, poi leggono i dati, ti danno la risposta. Cioè alla fine era Natural Language Processor, sistema di processamento del linguaggio naturale, che capiva indipendentemente dall'accento eccetera quello che dicevo e me lo traduceva. Cioè 70 anni, con gli inverni in mezzo, perché non c'era una sincronizzazione fra la macchina che doveva far girare l'algoritmo e capire e l'algoritmo che era una formula complicatissima che però non riuscivamo a risolvere perché analiticamente non si risolveva. Questa storia mi fa capire che in realtà l'intelligenza artificiale, sono 70 anni che cerca, ma anche di più, che cerca di fare una cosa che è lavorare sul linguaggio naturale. Poi ovviamente, adesso bisogna essere onesti, l'intelligenza artificiale di più. Abbiamo quelle verticali, Alexa, o cose del genere, poi abbiamo quella generale. Quella generale è una cosa molto più ampia, perché io imparo dalla generative AI e poi posso avere un sistema quasi autonomo che, anche su problemi estremamente complessi, prende le decisioni. È il caso che abbiamo noi quando dobbiamo, non so, pilotare un aereo in situazioni complicate, gestire una rete, che ne so, satellitare, analizzare un'analisi TAC, un'analisi di una risonanza magnetica, cose di questo tipo. Bene, con questa situazione, adesso, la domanda che noi ci dobbiamo porre, sostanzialmente, un po' come Paese, un po' come Europa, è abbiamo capito quali sono i building blocks e sappiamo che su alcuni proprio non ci siamo, su altri siamo abbastanza competitivi. Ha senso completare il pacchetto tecnologico? Cioè, vi dico francamente, non avrebbe molto senso che l'Italia si mettesse in proprio con, super computer, cloud, 5G, non avrebbe senso. Noi dobbiamo fare la cyber security sicuro perché quella, ragazzi, diciamo è sicurezza nostra dei cittadini. Probabilmente dovremmo risolvere il problema del cloud, almeno quello sicuro per i cittadini, e spingere perché a livello europeo i grandi paesi creassero un'infrastruttura continentale. Più facile a dirsi che a farsi. Non abbiamo grandi risorse dal punto di vista dell'elettronica. Perché vi ho raccontato la storia degli inverni dell'AI. Perché alla fine, come avete capito, l'AI accelerava ed accelerava in funzione di quanto potenti erano i computer. Ma i computer potenti vuol dire quanto bravi fossero gli elettronici a fare chip sempre più potenti. È chiaro che se io chiudo, non investo su chip, non investo sull'industria elettronica, non mi si fermano solo le automobili che erano le centraline, non mi si fermano solo i pc, che oggi per comprare una macchina ci vuole un anno, no? Perché c'era la crisi dopo il covid. Mi si ferma anche tutta la filiera di sviluppo dell'AI. Allora, questa è una scelta di politica industriale, forse la si può fare anche questa a livello europeo, perché poi se devi fare dei colossi li fai europei, non li fai nazionali, però bisogna giocare un ruolo. Vale anche per la difesa, per noi è esattamente lo stesso. E infine il problema delle normative, perché è chiaro che è molto evocativo dire la macchina ci sopravvanzerà e così via. Allora qui, diciamo, chiudo con un aspetto un pochino più filosofico. Allora, se voi prendete un essere umano, un essere umano ha una caratteristica unica di avere un'intelligenza naturale, ma comunque un'intelligenza generativa, no? Che genera idee, che è diversa, eccetera, che è collegata a un sistema di attuatori. Il sistema di attuatori è il corpo umano. Io penso e in base a quello che ho pensato faccio. Fare vuol dire parlo, sento, vedo, mi muovo, afferro, però ho degli attuatori e ho un'intelligenza. L'equivalente artificiale di questa cosa potrebbe essere un'intelligenza artificiale, quindi computer e memoria e un robot, perché qualcuno deve attuare, no? Perché se no, diciamo, un conto è riconoscere un linguaggio, un conto è fare qualcosa che attua. Allora, abbiamo detto già che l'intelligenza artificiale non la faccio col telefonino, perché se è una roba che deve essere competitiva con me, essere umano, è un computer grande come questa stanza che consuma 10 megawatt di potenza, perché noi abbiamo un cervello a base di acqua che con un pezzo di cioccolata per due giorni pensa, con la stessa capacità di pensiero di un super computer che consuma un quartiere di Roma, perché poi questa è la verità. Io sono fatto, sono frutto di un'evoluzione di 3 miliardi di anni, il computer sono 50 anni di tecnologia e questo computer, presa la sua decisione, deve dare a un robot il comando fai quello che io ho deciso. Fare quello che io ho deciso può essere prendi questa bottiglia e spostala perché se no cade. Questa combinazione non sarà almeno per un periodo lungo competitiva con noi, quantomeno come costi. Avete sentito tutti che il costo energetico dei server, eccetera, è un costo enorme e anche il costo ambientale. Si parla di frazioni percentuali, si parla di frazioni percentuali di qualche percento del greenhouse gas totale emesso per via delle super macchine, dei grandi server, dei provider di cloud, dell'industrializzazione digitale, eccetera. Allora, prima osservazione, questa roba va usata quando ne vale veramente la pena, perché difficilmente noi sostituiremo l'artigiano con una macchina così complessa costosa per fare una roba in cui la capacità di improvvisare quasi gratuita dell'essere umano è irriproducibile ad una macchina complessa. Se poi la vogliamo far riprodurre, vediamo quanto costa. Se per riparare il bagno dovete spendere 10 milioni di dollari, forse conviene chiamare il tecnico umano che è la macchina. Questo ci porta ad una considerazione di natura, io dico un po' ridendo gius lavoristica, cioè ci sono in questo momento in recessione una serie di lavori, di sistemi professionali che sono basati su routine cognitiva o su routine meccanica, sono le classi più deboli purtroppo. Certamente l'artigiano che è basato sull'arte, sulla capacità di improvvisazione, di adattamento e non è di routine, difficilmente viene rimpiazzato da queste tecnologie. I lavori ad alto contenuto cognitivo non saranno rimpiazzati da queste tecnologie, anche se si ventila di utilizzare alcuni di questi sistemi per giornalismo, per analisi di sentenze, per analisi diagnostiche. Però attenzione, un conto è che io ho una macchina che molto velocemente mi legge 150.000 sentenze e mi fa il sommario statistico, però poi il giudice sono io che utilizzo questa cosa come se avessero avuto 200 collaboratori che avessero fatto la lettura per me. Un conto è che la macchina che ha fatto questo poi decide, perché l'analisi ultraveloce è una caratteristica verticale, la decisione non è una caratteristica verticale, è una caratteristica orizzontale. L'uomo decide, utilizza una macchina per andare più veloce. Allora quando io vado a giocare a pallone, la macchina mi porta al campo, ma poi non gioca lei per me a calcio, sono io che gioco, mi faccio portare. Quindi sono degli acceleratori di competenza. Se li utilizziamo così in maniera intelligente sono molto utili e hanno anche una buona cost effectiveness. Però l'impatto sulla job force, sulla forza lavoro, è quello che vi ho detto. I lavori di routine sono minacciati e quindi è vero che l'intelligenza artificiale creerà una quantità di lavori nuovi che nemmeno adesso immaginiamo, ma è altrettanto vero che adesso noi mettiamo a repentaglio delle fasce di lavoro debole. E qui bisogna fare una riflessione che di nuovo è pubblico-privato, pubblico-privato, non può essere solo pubblico e solo privato, investimento in aggiornamento continuo sul lavoratore. Tenete conto che se la vita media del lavoratore è 40 anni, oggi in questa durata di 40 anni cambiano 3-4 generazioni di tecnologie, quindi il lavoratore mediamente ogni 10 anni diventa un dinosauro. Ma a partire da me, che ho fatto tutta la vita tecnologia, adesso pensate uno che si è diplomato a 18 anni, adesso è una 60, questo è partito col telefono fisso, oggi deve governare con un joystick il drone per fare una foto del tetto della sua fabbrica. Ragazzi se questo qui non viene in qualche modo aiutato, noi semplicemente stiamo perdendo la forza lavoro. Ma non credo che qualcuno voglia dire che allora noi siamo i droni o fermiamo lo sviluppo dei droni, dobbiamo avere una strategia. Ultima cosa che volevo dirvi riguarda gli aspetti normativi, poi ci sarà una considerazione etica piccolissima, brevissima, molto personale. Allora sugli aspetti normativi in questo momento dovete tener conto che abbiamo una commissione europea che ha fatto diversi lavori regolatori che però sono basati sostanzialmente su un approccio estremamente giuridico. Il rischio di questo approccio, ovviamente si fa bene a parlarne, però il rischio di questo approccio è che facciamo il codice della strada prima di avere gli automobili e le strade e questo diventa limitante anche per lo sviluppo. Negli Stati Uniti non l'ha fatta la commissione legal affairs come nella nostra commissione europea, l'ha fatta la house of offices of science and technology, quindi un approccio totalmente tecnologico, forse lì si è stati un pochino più, forse è troppo permissibile, c'è sopposto, cioè è stato fatto un modello centrato sull'AI come strumento utile per una good AI society, scontava l'ottimismo della Silicon Valley, anche la bolla digitale della Silicon Valley, detto onestamente, e alla fine si era soncavata dicendo l'etica ce la dà la trasparenza, l'etica contiene la trasparenza ma non basta la trasparenza. Quindi ci sono poi esempi intermedi, se andate a vedere IEEE, la società internazionale di ingegneria 2017, ha fatto una global initiative sull'etica delle macchine intelligenti e autonome, quindi non solo l'AI ma tutto quello che è generato da AI, in cui ha trattato dei diritti umani, del benessere dell'essere umano, che deve essere sempre garantito dalla macchina, dell'accountability, cioè il fatto che se una macchina fa una cosa qualcuno è responsabile. Perché se una macchina autonoma fa un errore, come la trattiamo? Essendo autonoma la puniamo, ma la macchina non è che se ne frega nulla se la spegniamo, cioè la condaniamo a morte o se la mettiamo in galera e la prendiamo della libertà, perché non ha istinto di conservazione, istinto di sopravvivenza, non ha fame, non si riproduce, va bene la mettiamo in una scatola, quindi non la può educare la macchina dal punto di vista etico. La trattiamo come un minus abens oppure come un bambino, quindi la responsabilità di chi è del genitore, chi è il genitore? Il costruttore. È però un momento, se io costruisco computer e telefonini non è che sono responsabile per qualunque macchina, posso aver fatto una cosa strana, tra l'altro programmata da chi sa chi. Oppure cosa faccio? Dico che comunque la colpa è sempre per forza del possessore, quindi non del produttore, di chi ha comprato quella macchina. Io mi compro la Tesla, la Tesla non funziona, il pilota automatico, siccome l'ho comprata è colpa mia. Questi sono eventi casi giuridici reali, su cui non c'è un indirizzo, quindi l'accountability è importante. Poi c'è la trasparenza, cioè io devo dire esattamente cosa può fare e cosa non può fare la mia macchina, autonomo e intelligente, e poi c'è un aspetto fondamentale che è difficilissimo da quantificare, che è la consapevolezza del possibile abuso. Questo ha fatto la Società d'Ingegneria Internazionale dal 2017, un papirone pieno di pagine da leggere, molto interessante. Questo è un terreno fertile di diritti umani, di aspetti legali, tutte queste cose che mi hanno messo insieme. Allora, non c'è a questo punto una definizione senza confusione dell'AI, perché se vi dicono che l'AI è la chat, la GTP o altro, no, quella non è l'AI, quella è una delle possibili applicazioni, che è un po' l'evoluzione del National Language Recognition, che per carità sarà anche utile, ma è un aspetto. L'AI potrebbe essere un domani un sistema che pilota 40 aerei, il traffico aereo, tutto in automatico, in fondo noi oggi già facciamo atterrare i grandi aerei col piloto automatico, è una forma di AI, cioè noi l'AI ce l'abbiamo da tanto tempo in casa. L'AI non è la domotica, ma anche quella... come non siamo in grado di definire cosa sia l'intelligenza? Non siamo in grado di definire cosa sia l'intelligenza artificiale, se non una combinazione di algoritmi girati da un potente computer, che ha una base di dati da qualche parte, protetti ciberneticamente, e fatti viaggiare su una portante, diciamo il 5G o quello che mi pare. Alla fine è questo. Poi il resto scala. Io concludo con una domanda, parliamo di intelligenza artificiale, ma voi pensate che fosse più intelligente? Caravaggio, Einstein o Pelé? Non mi potreste mai rispondere, perché l'intelligenza fisica di Pelé, o di un altro, di un grande atleta, l'intelligenza fisica, motoria, l'intelligenza artistica di Caravaggio piuttosto che di Picasso, l'intelligenza scientifico-tecnica di Einstein, sono sostanzialmente tre cose completamente diverse. processate da cento milioni di miliardi di neuroni che sono appallottolati in una sfera fatta al 75% di acqua, che chiamiamo cervello. Le stesse identiche cose, un videogioco, un aeropilotato, che ne so io, un algoritmo che produce il tempo, sono fatte da centinaia di miliardi e miliardi di transistor che processano elettroni su cavi di rame, che fanno girare un algoritmo, che prendono dati che sono stati accumulati da qualcuno e vi danno una risposta, un modello, una figura, o decidono di far fare un robot o qualcosa. È esattamente la stessa cosa. Quindi noi abbiamo un dovere tecnico-industriale di capire chi vogliamo essere, quello che ci manca, quello che non ci manca, dove vogliamo andare. Abbiamo un dovere ovviamente regolatorio-legislativo, ma da non mettere davanti alle scelte, perché se prima non abbiamo scelto, è inutile che regoliamo ciò che non è regolabile. L'intelligenza è difficile da regolare, by the way, anche se sia artificiale. E poi dobbiamo educare il cittadino, perché alla fine chi è l'utilizzatore della tecnologia in ultima analisi, a partire dai social, che sono una tecnologia abbastanza semplice e inutile, è il cittadino che non soffrisce. E se il cittadino non è consapevole dell'abuso o dell'errore, qualunque tecnologia, anche la più utile e buona, diventa nociva. Questa bottiglia non è nata come arremata guerra, ma se io, scusatemi, la tiro in faccia al mio amico Filippo, gli faccio molto male. Nessuno vorrà fare una discussione sul pericolo della bottiglia, semmai la deve fare sul pericolo della mia maleducazione, della mia incapacità di considerare le conseguenze dell'abuso. E questo, secondo me, gli educatori, gli industriali, i politici, hanno questa grande responsabilità. prima di preoccuparsi di una macchina che non ci farà mai del male, perché non è nella catena alimentare, dobbiamo preoccuparci di noi, come gestiamo queste tecnologie. Io spero di aver contribuito alla vostra analisi e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, chiedo se vi siano colleghi che intendono intervenire. Onorevole Pelufo, prego. Grazie, Presidente. Ringrazio tantissimo il Professor Cingolani. Per certi aspetti stavo pensando, ascoltandola, che stiamo facendo questa indagine conoscitiva, questa poteva essere una sorta di premessa, anche per come ha cercato di sistemizzare alcuni aspetti, come ha definito il termine infrastrutturale, e poi invece la parte che ci riguarda più direttamente, quelli etico-legislativi. Intanto, Presidente, credo che due aspetti che sono stati messi in evidenza, anche per il lavoro che poi saremo chiamato a fare, siano piuttosto rilevanti. Uno è questo, che si tratta di compiere delle scelte di politica industriale. Quindi, una discussione talmente complessa che il nostro Parlamento lo sta affrontando nei due rami con diverse indagini conoscitive per quanto ci riguarda, secondo me questo è un aspetto fondamentale. Qui si tratta, come sistema paese, di fare alcune scelte politiche industriali. Prima cosa, seconda, la dimensione europea è fondamentale, perché rispetto a quei quattro asset in termini infrastrutturali, il fisico di cui abbiamo bisogno non può che essere a livello europeo. La domanda che voglio fare è questa, siccome ho spaziato molto, il professor Cingolani, a me veniva in mente questo, ascoltando diverse audizioni, perché oltre a esserci questa discussione sui rischi e opportunità dell'intelligenza artificiale, è iniziato nel nostro Paese anche un dibattito rispetto alla curva demografica, cosa che anche qui, forse da 30 anni, che dovevamo accorgere, sta diventando di grande evidenza. Allora, forse, in questa discussione che facciamo sull'intelligenza artificiale, almeno una parte delle scelte di politica industriale che si compiono, non possono avere un atterraggio che ci consente anche di guardare a quello che sono gli scenari di tendenza sulla curva demografica in maniera diversa. Bisogna incentivare la scelta consapevole di fare politiche migratorie in termini diversi, benissimo, però forse possiamo guardare all'applicazione della tecnologia e anche dell'intelligenza artificiale come un modo per poter, in parte, dare una risposta ad un Paese che avrà una dimensione, una densità di popolazione completamente diversa anche in termini del mercato del lavoro. Non può essere un modo per guardare con un certo ottimismo anche ad un aspetto così delicato dello scenario del nostro Paese. Onorevole Maerna. Grazie, Presidente. Professor Cingolani, la ritrovo con grande piacere. Ho avuto modo di conoscere le sue capacità, il suo pragmatismo, la capacità di vedere il futuro. Quindi sono qui a chiedere alcune... Abbiamo fatto alcune considerazioni, lei ci ha spiegato alcune priorità, quali devono essere il cloud, i dati, cyber security, eccetera. La domanda è è vero che dobbiamo lavorare a livello europeo e non solo nazionale, ma bisogna cominciare anche dal nazionale. Allora io dico, lei ce n'aveva anche prima al discorso del semi con noi, transistor, eccetera. Noi abbiamo, non abbiamo le Silicon Valley americane, però qualcosa c'è e anche di alta qualità. Quindi, cosa anche nella robotica, nel settore della robotica. Quindi domando, cosa possiamo fare noi come Italia. E qui il suggerimento che chiedo quando ero dall'altra parte, dicevo sempre, la politica è bene che ci ascolti. Adesso sono di qua, chiedo, chi ha esperienza con la sua, qual è la prima cosa che farebbe, se fosse da questa parte. Un ultimo aspetto, giusto che le problematiche normativi, casi giuridici, gli abusi, vengono analizzati quando si è deciso cosa fare e come. Il problema è energetico. Noi abbiamo approvato recentemente un DL Energia che prospetta un certo futuro, una certa azione nei prossimi anni. Io credo che sia, il problema di energia vada considerato alla luce di quello che si intende sviluppare come intelligenza artificiale. Grazie. Onorevole Antoniossi. Grazie. Buonasera professore, grazie per la sua esposizione. Allora, intanto, in termini elementari, cosa manca all'Italia a livello di infrastrutture per essere allineati con i big player degli altri paesi? Cosa ci manca? Poi un'altra questione. Diciamo, l'avanzamento dell'intelligenza artificiale produrrà sicuramente una serie di nuovi modelli, ma anche una serie di questioni etiche da affrontare. Non so ancora se a livello legislativo, ma certo che l'avanzamento dell'intelligenza artificiale pone tanti interrogativi, molti di questi anche legati a questioni etiche, alla sfera umana. Ecco, che cosa ne pensa? Grazie. Onorevole Cavo. Sì, grazie. Grazie ovviamente per questa spiegazione davvero molto puntuale e molto stimolante. Io vorrei fare una domanda un po' più specifica che deriva dalla possibilità che ho avuto di fare un viaggio negli Stati Uniti per l'altro comitato a cui partecipo che è quello della documentazione della Camera che peraltro oggi ha annunciato che utilizzerà l'intelligenza artificiale alla documentazione degli atti della Camera. In una delle visite che abbiamo fatto c'è stato evidente che negli Stati Uniti si sta puntando tantissimo sulla ricerca della computer quantistica cioè sul calcolo e l'aumento della capacità di calcolo dei computer più che su tutto il resto e addirittura è stato detto non voglio citare nomi specifici ma che la sfida è riuscire ad arrivare a un calcolatore stanno arrivando che ne varrebbe quasi 100 uno dei loro quasi 100 dei nostri dei vostri di noi è pensabile tutto questo è realizzabile vero ci state pensando riflettendo temendo o è insostenibile dal punto di vista anche ambientale e tecnologico grazie onore di Micheli prego grazie professore in questi giorni ci sono 300 convegni seminari all'università io sto cercando di ascoltare un pochettino tutti perché credo che questa sia anche una grande sfida per la politica e per la regolazione consentendo diciamo le tesi di fondo che lei oggi ci ha illustrato ovvero prima decidiamo a cosa ci serve dove vogliamo andare cosa vogliamo essere sotto il profilo anche industriale poi regoliamo e diamo i confini etici di questo agire emerge però chiaramente anche da quello che ha detto lei che la prospettiva è quella di una sostituzione di alcune tipologie di lavoro di attività umana e se è vero come diceva prima il collega Peluffo che questa ha qualcosa a che fare con l'organizzazione sociale del futuro dove noi avremo se non ci sono particolari investimenti in controtendenza probabilmente una società più anziana che quindi ha molto più bisogno di quella formazione di cui parlava lei prima magari anche in tempi addirittura più ristretti del decennio proprio perché lo vedo per me che non mi sento ancora vecchia ma ho bisogno di una formazione più accelerata già ora quindi figurarsi ecco ci sarà comunque una sostituzione di un lavoro che non è per forza negativo perché siccome io credo che l'obiettivo sia la felicità probabilmente non tutti i lavori ripetitivi generano felicità in chi li compie e quindi la sostituzione di quel lavoro con altri lavori meno ripetitivi potrebbe essere anche diciamo così un'opportunità c'è un tema però di redistribuzione della ricchezza prodotta dalle macchine e dall'intelligenza artificiale cioè io nell'alveo delle regole che lei individua come necessarie una volta deciso cosa facciamo fare a cosa serve per l'uomo e all'uomo questa intelligenza artificiale deciso questo noi dobbiamo anche decidere come usiamo quella ricchezza a cosa la destiniamo perché la sostituzione della ricchezza prodotta dal lavoro nel nostro sistema di welfare di pensione evidentemente determina uno sbilanciamento potrebbe determinare uno sbilanciamento quindi nel pacchetto di regole immagino che noi dobbiamo incominciare a ragionare anche su questa tipologia per evitare che ci siano ulteriori scivolamenti verso la concentrazione della ricchezza per chi detiene la tecnologia che è già accaduto nella prima fase dell'accelerazione tecnologica soprattutto dell'Occidente e invece chi invece si impoverisce progressivamente in assenza della possibilità di utilizzo della tecnologia Sì sì provo a rispondere in maniera sintetica allora l'onorevole Plufo mi diceva sulla crescita demografica chiedo scusa sulla crescita demografica è un punto assolutamente focale faccio due esempi sperando che facciano una sintesi allora innanzitutto se noi non alfabetizziamo dal punto di vista digitale i ragazzini dall'età di sei anni perché il cittadino del futuro sarà un cittadino digitale con identità digitale anche no? cioè proprio sarà tutto digitale se noi non lo rendiamo consapevole dall'età di sei anni da quando comincia e ci basiamo sul concetto che sei nativo digitale solo perché sei nato in un momento storico particolare la traduzione di nativo digitale è sei un'autodidatta è come se uno avesse detto tu sei nato nel 1900 quando cominciava a esserci i libri erano disponibili a tutti e quindi tu sei un nativo lettore no? quindi primo punto io la demografia la vedo addirittura dall'anno 6 capito? dall'inizio poi chi debba fare questo investimento per rendere le nuove generazioni consapevolmente digitali certo la scuola in questo momento richiede che qualcuno addesti l'educatore no? aggiorni l'educatore per carità io ho un passato da professore universitario mi rendo conto che persino per l'università che comunque diciamo ha un punto di vista più evolutivo anche lì l'aggiornamento è fondamentale figuratevi un insegnante che si trova i bambini di 6 anni e su cui nessuno investe per l'aggiornamento allora questo è il primo punto rovescio il problema demografico cittadino digitalmente consapevole non semplicemente nativo digitale dall'età di 6 anni io ho un mio figlio più piccolo è una 14 è uno schizzo con tutto quello che è digitale ma non so dove abbiamo imparato i miei figli più grandi erano generazione playstation avevano ancora i pulsanti il primo addirittura generazione tastiera io vabbè un dinosauro però mi ricordo mio figlio a pochi anni il piccolo che andava sul televisore e diceva papà è rotto perché non era touchscreen perché lui è nato con l'idea che una lastra di vetro su cui c'è un'immagine sia una lastra interattiva voi dite ma ci pensate che rivoluzione è? io sono nato che il televisore non c'era sì a casa mia è arrivato a casa mia è arrivato che io ero già grandicello io mi ricordo quando vabbè forse qualcuno ce l'aveva dalla nascita io ho 62 anni ricordo quando io ho 62 anni sì ricordo quando mia mamma mi disse abbiamo comprato una televisione e c'era lo stabilizzatore col pulsante a terra le valvole si doveva scaldare per me quella fu una rivoluzione mio figlio è nato con uno schermo piatto nero in casa mi piglio quello di 14 anni e appena è arrivato in età 4 anni che non sapeva leggere ma riconosceva i codici colori e sapeva usare i programmi delle app senza saper leggere ma li sapeva usare con codici colori e per una diciamo estetica del programma diceva il televisore è rotto perché non posso fare il touchscreen questa è una rivoluzione culturale che loro apprendono intanto in maniera ingiusta perché casomai a casa mia c'era l'iPad a casa di un altro non c'era questo è un momento di svantaggio culturale che noi creiamo senza volere poi c'è diciamo l'altra parte l'anziano visto che andiamo verso una generazione in cui nel 2035 avremo 40% di sessantenni o giù di lì che cosa si può fare innanzitutto fare in modo che per gli anziani la familiarità col digitale sia superiore perché mentre per il ragazzino nativo digitale è naturale per l'anziano il digitale è una barriera ha faticato a imparare a usare il floppy disk poi c'è la chiavetta poi c'è il cloud adesso non si capisce più nulla da questo punto di vista è esattamente lo stesso discorso del ragazzino però aiutare le generazioni della silver economy a sfruttare al meglio il digitale dopodiché lì le prospettive sono infinite semplificazione della pubblica amministrazione diminuzione dello spostamento che per l'anziano può essere complicato sistemi di banking di acquisto telemedicina se io insegno bene l'anziano a utilizzare diciamola chiamiamolo il touch screen e i sensori diffusi la sua pressione il suo battito cardiaco insomma tutta una serie di cose le può mandare con delle interfacce amichevoli delle friendly interface al suo medico ma questo vi richiede banda larga o il 5G insomma tutta una serie di infrastrutture che non abbiamo ok allora vedo enormi opportunità per facilitare il pacchetto demografico anche di un paese che invecchia però ancora una volta bisogna fare in modo che questo mistero del digitale sia in qualche maniera reso un po' più scolare più accessibile a tutti provate un po' tante volte a fare delle operazioni in cui vi dicono registrati per fare qualcosa online cioè sono delle volte che ecco il natural language processor potrebbe essere una roba che ti registra a voce e ti fa tutto quanto invece che stare a scrivere a impazzire sono cose molto semplici però credo che sia un'enorme opportunità per quanto riguarda la domanda che facevi prima il ruolo europeo delle nazioni sì noi abbiamo l'elettronica abbiamo la robotica però il vero problema che abbiamo perso un po' di indipendenza tecnologica guardiamo il caso di Atos Atos era il più grande costruttore modernissimo franco tedesco più grande costruttore ciao ma ci mancherebbe altro grazie Atos era il più grande costruttore europeo di super computer ma delle macchine altamente performanti adesso è in crisi l'unico europeo ma possibile che con un mercato da ho dato i numeri prima non voglio sbagliare 42 miliardi di dollari nel 22 117 nel 32 l'unico costruttore europeo di super computer consorzio franco tedesco credo che sia non ce la fa c'è qualcosa che non va ragazzi puoi dire sì perché deve comprare il gpu da fuori le gpu sono insomma alcuni dei componenti essenziali allora io sono un costruttore di auto ma non faccio i motori e ho sbagliato la filiera industriale faccio delle auto bellissime però i motori li devo comprare da un'altra parte ovviamente il motore di ultima generazione l'altra parte primo lo tiene per sé e a me da quella della penultima e io perdo il terreno sicuramente ci sono analisi più complicate da fare però qui è un po' il problema europeo tutta la la furbizia che noi abbiamo avuto delocalizzando le produzioni io me lo ricordo perché tra l'altro noi eravamo a quei tempi eravamo in un altro mondo e facevamo opto elettronica ricerca eccetera bene c'è stato un momento in cui ah io porto la produzione di chip di diodi di tutto in Cina perché costa di meno e poi tanto quelli la roba ce la danno a basso costo poi a un certo punto hanno imparato il mestiere e ci hanno superato il risultato che noi oggi abbiamo perso la capacità manifatturiera su dei componenti essenziali che ci pensavamo molto furbi a delocalizzare a basso costo da un'altra parte ma è una furbizza che è durata poco è una furbizza durata poco sì avremmo fatto un po' di di EBITDA più alto per una decina di anni ma non era longimirante queste le partite che noi stiamo discutendo sono partite che che funzionano a mezzo secolo noi stiamo parlando del futuro al 2080 pensare che io guadagno un po' di più sino al 2028 per esempio delocalizzando è un atto un po' miope chi ha visto il futuro l'ha visto in questo modo allora ho un piccolo privilegio lavorando in un settore dove i prodotti gli aerei gli elicotteri durano 30-40 anni io sono costretto a pensare a 40 anni vengo da un mondo quello della scienza della ricerca dove noi pensavamo a 50-100 anni tanto era il nostro mestiere quindi mi è abbastanza congeniale però attenzione sull'high tech non si può ragionare massimo profitto a 5 anni le scelte industriali e sociali e quindi politiche devono tenere conto che l'high tech è una roba che ha un'onda lunga non sono i social attenzione i digitali non sono i social è la roba di cui stiamo parlando i social è chiaro a 3 anni fai la bolla le apri le chiudi questa è una roba molto più lunga non abbiamo avuto la capacità di discernere la prima cosa la prima cosa che farei è quella che ho fatto a Leonardo sono entrato a settembre del 17 non come amministratore delegato ma come capo della tecnologia la prima cosa che ho detto è siamo digitalmente indietro ho fatto una proposta al Consiglio di Amministrazione che fu valutata fortunatamente bene super computer super cloud interfaccia veloce siamo fra i primi 3-4 al mondo come cloud computing nell'aerospese e difenza ovviamente nel mio settore non è che potevo fare tutto e questa cosa adesso non avete idea di come ci sta pagando su tutti i programmi il Gcap tutti i programmi strategici perché ci troviamo a legge se non addirittura in vantaggio rispetto anche ai grossi competitors perché abbiamo una capacità di calcolo di sviluppare AI eccetera che gli altri i nostri competitors anche più grossi non hanno e ora vengono da noi ci vengono a cercare sono passati 19, 24, 5 anni 5 anni sono tanti nella fase infrastrutturale ma se tu fai lo sforzo e ci vedi un po' prima ecco questo sarebbe fantastico che diventasse un argomento di discussione ovviamente scusatemi non c'è politica dietro questa cosa o meglio c'è politica industriale non c'è industria della politica è una cosa diversa è una cosa su cui dovremmo essere tutti d'accordo chiudo dicendo che non dimentichiamoci la questione energetica anche sul management dell'energia questi AI e queste infrastrutture aiutano a ottimizzare uno due noi abbiamo illuso generazioni pensando che le piattaforme digitali come i social fossero gratis abbiamo fatto una cosa tremenda quando un prodotto è gratis vuol dire che il prodotto sei tu ed è quello che sta succedendo tutti questi social che cosa fanno? profilano le nostre informazioni e guadagnano sulle nostre informazioni quindi io sono io non ho niente di social non uso però tutti i ragazzi che pensano che sia social se uno gli dicesse paga 5 centesimi per ogni post che fai comincierebbero a dire perché devo pagare per mettere il post del mio panino con la cioccolata e non lo farebbero a quel punto verrebbero meno le informazioni a quel punto avere un social non sarebbe più conveniente ecco se un oggetto è gratis non lo è è che il prodotto sei tu e non te ne accorgi questa è una deformazione perché tutti pensano che questo sia un effetto delle AI ma manco per niente questa è una struttura di natura se volete commerciale comportamentale ed educativa e qui la scuola sei anni nativo digitale quella roba là facciamo capire che mandare una una mail o un messaggio di un megabyte che probabilmente manco una foto ci mandi produce la stessa anidride carbonica di una lampadina da 60 watt accesa 30 minuti per lo meno questo era sino a poco tempo fa cioè io mando una cosa inutile piccola piccola e produco la CO2 come se avessi tenuto sul mio comodino mezz'ora accesa la lampadina senza motivo questa roba qua i ragazzi non ce l'hanno perché pensano che sia gratis perché pensiamo che sia tutto gratis ogni volta che faccio un search vado a vedere cosa c'è al cinema io penso che sia gratis in realtà quello brucia corrente mi profilano perché sto vedendo i film che vado a vedere quindi è educativo il problema vado avanti cosa manca l'Italia ma io non potendo fare tutto avendo penso perso la corsa al 5G mancano delle grosse alleanze europee e poi sicuramente io punterei a un cloud molto forte nazionale c'è un tentativo adesso però siamo un po' lenti già se avessimo buona competenza di calcolo e informazioni dei cittadini protetti in un cloud mi sentirei in un paese più sicuro poi con un consorso europeo con tecnologie anche europee cercare di potenziare la rete 5G tanto quella non riusciamo ad averla noi e molto forti sulla cyber security che quella sia come dire è nazionale nostra cioè io devo essere sicuro se 3 su 4 ce li ho cavolo per essere un paese diciamo non un continente vado bene e poi dopo devo forse potremmo essere un po' da ispiratori per per il resto dell'Europa le questioni etiche guardi io ho provato prima ad addentrarmi un po' nell'etica io purtroppo sono un fisico non ho una preparazione filosofica però ripeto sono molto preoccupato della stupidità naturale poco preoccupato dell'intelligenza artificiale e conto sull'intelligenza naturale e questa diciamo è la mia sintesi non bisogna esagerare in regole perché tanto le regole non prevederanno mai tutti gli abusi però come vi dicevo prima la capacità di discernere la possibilità di un abuso con queste tecnologie è fondamentale però abbiamo i precedenti un'automobile lanciata a 150 all'ora in città è un'arma infatti noi abbiamo fatto il codice della strada il codice della strada tutto sommato serve a dare informazione e coscienza a chi guida del fatto che il cattivo utilizzo è pericoloso e poi ci sono delle regole e ovviamente delle sanzioni ma non è nato così si è evoluto con l'automobile con le strade ecco secondo me noi dobbiamo partire sulla formazione cioè sulla scuola guida nel caso delle AI nelle scuole in tutte le fasce e far evolvere le regole in funzione della pervasività di questa tecnologia oggi sembra che questa tecnologia venga da Marte non si capisce chi la porta ne parlano tutti però sembra sempre perché la fa un altro invece no quando sento dire l'ha detto l'onorevole capo prima parlando della sua trasferta ci hanno detto che utilizzeranno le AI sì ma è come se avessero detto che utilizzano il computer come se 15 anni fa avessero detto da domani negli uffici della camera utilizzeremo il Telefax ok certo ci sta lo usi non è che se usi AI chissà che stai facendo stai usando un computer che fa due conti che ti tratta dei dati e ti dà una risposta il punto è come usi la risposta quindi purtroppo si ricollega tutto al modello di preparazione del cittadino la public awareness la coscienza la consapevolezza pubblica dai 6 anni ai 150 augurando a tutti una lunga vita che noi dobbiamo avere quando abbiamo questi strumenti esattamente come quando guidiamo la macchina è uguale l'onorevole capo non c'è però ah ok no no lo so mi ha salutato la conosco per le questioni genovesi come immaginate quindi casomai poi le risponderò di persona però la questione del quantum computing vi dico questo il transistor è stato inventato nel 51 se non vado errato Bardin, Schickland, Cooper ha vinto il Nobel nel 57 non serviva assolutamente a nulla serviva a studiare le caratteristiche elettriche del Germania un materiale che è totalmente sparito dall'orizzonte perché è inutile però siamo 57 65 anni dopo il transistor è tutto intelligenza artificiale inter tutto quanto chi l'ha inventato io ho fatto il mio primo il mio primo progetto europeo su quantum computing sul quantum bit 1994 sono passati già 30 anni non siamo andati molto avanti rispetto ad allora era un progetto europeo e quindi è come il transistor nel 51 inventato e nell'80 a che punto era il quanto computer arriverà sarà molto più potente dei computer attuali vero se ne funzionerà uno sul serio sarà come 100 super computer attuali ma prepariamoci che è una questione di diversi decenni e quando succederà avremo una potenza di calcolo straordinariamente elevate ci porremmo il problema che questa è molto superiore a quella che abbiamo oggi ma se vi dicessi dieci anni fa il telefono che avevate ve lo ricordate ve lo ricordate il telefono dieci anni fa ve lo ricordate com'era beh oggi guardate questo è molto più potente il telefono che avevo o anche la vostra smart tv o la macchina interconnesse eccetera vabbè la natura delle cose la tecnologia cresce preoccupiamoci se non dovesse crescere vorrebbe dire che il genere romano si è fermato e infine l'onero De Micheli job force replacement la ricchezza prodotta allora ti do una risposta dell'industriale e poi una risposta diciamo da diciamo da scienziato da tecnico dell'industriale ti dico nel momento in cui l'economia tira e questi prodotti sono ben utilizzati fanno PIL se fanno PIL direttamente o indirettamente creano lavoro se c'è lavoro la società va meglio dopo c'è un problema di distribuzione di cui io sono totalmente d'accordo e consapevole però intanto creiamo il più lavoro possibile perché se non c'è il problema di distribuzione quella a monte non lo risolvi quindi io direi siccome l'intelligenza artificiale cosa fa ottimizza tutto se tu ottimizzi riesci a far funzionare meglio la società è vero che puoi perdere posti di lavoro però attenzione perché come è sempre successo in ogni rivoluzione industriale hai sostituito il punto che mentre prima ci mettevi 30 anni perché un prodotto nuovo diventasse pervasivo e in quei 30 anni la gente andava in pensione i nuovi si formavano adesso ce ne metti 5 e quindi è troppo veloce però ritorni al problema di aiutami ad aggiornarmi perché questi passaggi questi step tecnologici sono troppo avvicinati però è sicuro che creano nuovi che creeranno nuovi tu pensa quanta gente adesso fa app che 10 anni fa che cos'era un'app allora tu dici scomparso quello che ripari i telefoni al rullo ma tu pensa quanti sono quelli che fanno un'app adesso è allora questa cosa qui la dobbiamo affrontare senza piglio ideologico cioè senza demonizzare la tecnologia ma senza far finta che non è un problema perché il problema c'è e la tecnologia che l'ha creato in parte lo risolve se noi mettiamo in condizione le persone di poter operare sulla tecnologia stessa è un patto pubblico cioè io te lo dico come azienda se lo Stato ci dicesse facciamo qualcosa per la consapevolezza digitale dei cittadini mettiamo a 6 anni a 60 ecco io credo che questo sarebbe un'area in cui Leonardo avrebbe la possibilità e la volontà di investire perché sarebbe una cosa di impatto sociale enorme che crea PIL soprattutto che poi fa comodo anche a me se la società va bene l'AI migliora la sostenibilità ti saluto l'AI migliora la sostenibilità e anche questa è una cosa che crea PIL che in qualche modo ha un impatto molto positivo perché ottimizza il ciclo del rifiuto il ciclo dell'acqua il ciclo energetico come dicevamo prima prendiamo le cose buone utilizziamole ma niente il resto se democratizziamo la tecnologia la rendiamo fruibile a tutti la tecnologia non può che fare bene però ci vuole un utilizzatore informato e una tecnologia realmente utilizzabile e realmente democratica se la tecnologia è di elite e l'utilizzatore non è informato perdiamo gran parte del beneficio la ringraziamo perché è stata un'audizione molto molto interessante proficua e anche con tanti esempi diciamo in qualche modo semplici che hanno reso molto bene l'idea di un problema anche complesso grazie